buongiorno a tutti amici benvenuti in nostro canale dove ci troviamo oggi amore e che faremo ora direzione bivacco la del teine e poi domani mattina c'è il sera un piume dell'alba e andremo verso il testa grigia andiamo noi giriamo qui raffronteremo il sentire numero 10 e da qui prenderemo il 10c che ci porterà fino al bivacco la del teine e due di mattina testa grigia conosco pippi sei pronto amore andiamo qui al bivio prendiamo a destra sentiero 10c grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti ora fonderemo il primo tratto attrezzato fino a su e andiamo grazie a tutti 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 ecco qua la nostra pippi esploratrice quanto è noi in monte rosa stupendo eccoci qua amici si è un po' annuvolato però dovrebbe essere un po' di addensamenti non dovrebbe portare chioggia e niente direzione testa grigia e dove andremo a muore adesso? al bivacco la del teine tra un po' raggiungeremo il bivacco la del teine mancano più o meno 400 metri di livello e andiamo eccoci le prese della petraia eccoci qua amici qua la pippi ora andremo qua su e sbughiamo qua su sul colletto per poi deviare a sinistra e andare verso il bivacco a del teine siamo per arrivare al colletto morire ho detto prima dove siamo? sembra di stare su Marte è bellissimo è un ambiente tanto misterioso con ste nubi comunque la salita si fa sentire considerato che stiamo affrontando quasi 1500 di slipello positivo da Cresconei una bella rampettata 1500 fino ad arrivare a bivacco la del teine poi per la vetta ci sono altri 200 200 metri circa che faremo domani sperando che il tempo sia la nostra parte andiamo eccoci giunti al colletto e giù si trova il bivacco la del teine mentre qua dietro a noi il testa grigia e la colo a su allora amici siamo giunti al bivacco la del teine alle nostre spalle stanno un po' gli stambetti guardate grazie a tutti la nostra pippi giunti al bivacco la del teine eccolo qui ed ora vi faremo vedere il suo interno la nostra pippi che entra allora amici il bivacco la del teine è composto da 14 posti letto 7 sotto e 7 sopra è provvisto anche di coperte e cuscine c'è tutto l'occorrente qua un po' di storia nell'agosto del 1950 Holurich la del teine la posa della prima pietra ovviamente i rifiuti si bottano sempre a valle qua sotto noi abbiamo i laghi pinte qui allora amici con questa splendida vista sul mondo di rosa vi do la buonanotte e ci vediamo domani mattina all'alba lassù su testa grigia a domani amici buonanotte buongiorno a tutti amici adesso direzione testa grigia il cielo ci è aperto e torniamo su in vetta a doverci l'alba come termine queste date muore benissimo non mi passa vivacco la del teine era quasi tutto pieno quasi tutto pieno era ultra pieno ormai manca poco la vetta ora ci rimane affrontare il tuo tratto e poi in vetta come ha Vippi? è bevizio bello eh? ci vedono tutte le persone che salgono giocca panna la virgita oggi il monte rosa orfaneremo questo piccolo muretto poi a destra in gengia fino ad arrivare alla vetta allora qui è presente una catenella dove aggrapparsi eccoci qui in gengia qui è presente sulla sinistra un cavo dove aggrapparsi ed eccoci qui sotto la vetta con l'ultimo tratto attrezzato si va su eccoci qua la nostra Vippi che sta salendo ed eccoci qua in vetta grazie a tutti grazie a tutti vi presento il testa gricia con i suoi 3.314 metri è la cima più alta a fare da spartiacque tra la valle dagli ass e gressonei per la sua posizione dalla cima si gode di un'ottima e ampia veduta sul massiccio del monte rosa ed altre montagne come il cervino il monte bianco il gran paradiso il monte milius insomma una vista a 360 gradi questa montagna il testa gricia fu scalata per la prima volta il 7 agosto del 1858 di un'ottima Grazie a tutti. Eccoci qua amici in vetta a testa grigia, stupendo, qua la crocivetta, la campanella. Eccoci qua amici in vetta a testa grigia, stupendo, qua la crocivetta, la crocivetta, la crocivetta, la crocivetta. A ritorno, verso Cressonei, faremo un altro sentiero, così da compiere un giro ad anello. E andiamo. Ora ripeccorriamo la gengia. Ok amici, mi sono fatto un trattino qua, mi sto arrampicando. Il nostro Pippi. Com'è amore? E andiamo giù. Comunque, vetta a testa grigia, stupenda, regala un panorama a 360 gradi. Dal Monte Rosa, al Cezino, al Bianco, al Gran Bradiso. Bellissimo proprio. Che amore? Andiamo va. Allora amici, noi ieri siamo venuti da qua sotto, qua dritto si va per il bivacco, e oggi noi andiamo a destra, passando per il Colle Pinter. Allora Pippi, andiamo. Dopo aver visto una bella famigliola di Stambetti, e ci dirigiamo verso giù, a Colle Pinter. Qua c'è lo spettacolo dei Laghi Pinter. Stupendo. Eccoci qui arrivati a Colle Pinter, 2777 metri, ed ora ci dirigiamo a destra, a Grissonei, la Trinité. E andiamo giù, per questo pallone. Sei pronta Pippi? Sono nata. Adesso si magna tra un po', eh? Sì. Tra un po' si magna, eh? Guarda come corre! Ecco qui che stiamo riscendendo. Eccoci qua giunti a Luaché. 2.368 metri. Carinissima. Ed ora si va verso Grissonei, la Trinité. Eccoci qua. Stiamo per giungere a Grissonei, la Trinité. Abbiamo lasciato la macchina. Allora, questo testa grigia. Com'è stato, amore? Morzapiato, letteralmente. Su Invetta c'è una vista a 360 gradi, su tutto l'arco alpino. Bellissimo. Alba fantastica, senza vento, temperatura top. Non si può chiedere di più. Vivacco top. Vero, vivacco bellissimo. Vivacco la Teltain. Poi abbiamo visto un sacco di stambecchi. Siamo arrivati a Grissonei, la Trinité. E finiscono qui questi due splendidi giorni. Passati qua, sopra Grissonei, la Trinité. Sul testa grigia. Mi raccomando, iscrivetevi al canale per vedere le prossime avventure. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao amici. Ciao. 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 Grazie a tutti.